Sono Luca Mazzucchelli, sono uno psicologo, un divulgatore e anche un imprenditore. Sono quattro anni che frequento l'MBS e ho iniziato a frequentarla perché avevo voglia di muovermi nel panorama imprenditoriale ma non sapevo da che parte iniziare. L'imprenditore ha accompagnato step by step, day by day a metterle a terra. Non sono dei semplici corsi una botte via che ti vengono fatti e poi ti arrangi ma c'è proprio un percorso, un processo. Sicuramente è un arricchimento, la prima volta che sono venuto qui mi ricordo che si era diplomato Pinuccio Massaglio, un dentista storico e tra i requisiti che aveva dovuto assolvere per potersi diplomare ce ne erano di folli, di pazzeschi per me e pensavo sarei mai riuscito ad arrivare a fatturare 50.000 euro al mese di utile e dicevo beh non si può fare una cosa del genere. Poi a furia di stare in questo ambiente e di confrontarmi anche con esperienze tra loro diverse mi sono detto ma se riescono ad avere 50.000 euro di utile al mese con i pasticcini ma perché a me non dovrebbe essere possibile farlo con la psicologia. Ho avuto un'esperienza molto positiva quindi io suggerisco di fare un investimento prima di tutto su se stessi e sulle competenze che questa scuola può dare perché guardandomi indietro quattro anni dopo che ho iniziato questo percorso sono molto più sereno e felice quindi anche di quello che ho costruito.